Le dinamiche impazzite dei prezzi di alcune importanti materie prime spaventa da tempo i costruttori edili. Il ferro acciaio tondo per cemento armato a novembre 2021 rispetto a un anno fa, secondo gli ultimi dati del MEPS, manifesta un rincaro del prezzo base del 226,7%. I dati più recenti riferiti al mese di novembre 2021 registrano rispetto al mese precedente un ulteriore aumento del 11,4%. Se a questi aumenti si aggiungono anche i costi energetici esplosi a gennaio e da ultimo aggravati dalla guerra tra Russia ed Ucraina, si comprende perché i lavori siano a rischio con ricardute devastanti per l'edilizia, da sempre volano per l'economia. Questi andamenti trovano conferma anche nei dati di fonte Siderweb che tra novembre 2020 e ottobre 2021 indicano per il prezzo base del ferro acciaio tondo per cemento armato un incremento medio del 220%. Per i lavori pubblici, sottolinea il presidente di Anceabruzzo Antonio Dintino, stiamo assistendo ad interventi governativi tesi al parziale contenimento degli effetti dovuto all'aumento dei prezzi, con provvedimenti speciali da adottare con compensazioni per i lavori eseguiti e contabilizzati nel periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2021 e inerenti ad offerte antecedenti al 1 gennaio 2021, il cui contratto di appalto deve essere in corso di esecuzione al 25 luglio 2021 e con l'introduzione di un meccanismo revisionale valido per le procedure di gara indette fino al 31 dicembre 2023. A rimanere fuori dalle compensazioni moltissimi lavori aggiudicati con progetti redati sulla base di prezzari assai distanti da quelli correnti sul mercato e che pertanto in questa fase non possono essere avviate, se non mettendo a rischio l'interesse pubblico per la qualità del prodotto finale e la sopravvivenza delle imprese a causa dei problemi di approvvigionamento e di mantenimento dei margini. In attesa di un meccanismo stabile di revisione dei prezzi da inserire nel codice degli appalti, le imprese lanciano un forte grido di allarme teso a scongiurare il rischio di abbandono dei lavori ed invitano le stazioni appaltanti a voler intervenire nel rispetto del principio di equilibrio contrattuale che deve sussistere a salvaguardia di entrambi i contraenti senza approfittare della debolezza della controparte. Il messaggio è chiaro, chiude Dintino, senza adeguamento dei prezzi i cantieri non partono.